Dalla nuova isola ecologica pronta a breve al cimitero di Castelfranco, dalla riqualificazione di Villa Peppina ai lavori di contenimento sull'argine del fiume Olio. Numerose sono le opere progettate e attualmente in fase di realizzazione nel comune di Ronio che in queste settimane ha messo in campo una cifra considerevole, 3 milioni di euro tra fondi comunali, bandi regionali e ministeriali in favore del proprio territorio. Stiamo muovendo in questi mesi tra opere che vanno a complimento, altre che partiranno entro breve e bandi che stiamo chiedendo a Regione Lombardia, stiamo parlando di 3 milioni di opere, perciò progetti importanti che partono dall'isola ecologica che ormai è ultimata, che vede un impegno di spesa di 450 mila euro, il parcheggio di 25 auto che stiamo realizzando a Castelfranco e che nei prossimi giorni verrà terminato, il tetto del comune di Ronio che grazie al bando Axel verrà sistemato e verranno posizionati i pannelli fotovoltaici e una colonina per auto elettrica, la Villa Pepina che è una nostra struttura a Castelfranco con appartamenti per persone fragili, che vede un bando di Regione Lombardia di 550 mila euro per la ristrutturazione, l'efficientamento energetico e tante altre piccole sistemazioni, la palazzina che abbiamo a Ronio denominata Teatrino fino ad oggi ma che in realtà noi abbiamo un progetto ambizioso di riqualifica completa, di realizzazione di una sala polivalente, polifunzione moderna, tecnologica per fare progetti di vario tipo, il cimitero di Castelfranco che vedrà la sua ultimazione con 200 mila euro messi da parte del comune e vedrà i lavori entro il 2022, il fiume Olio che ha avuto uno smottamento dell'argine, si è riusciti a ottenere 250 mila euro da Regione Lombardia ed entro i primi cinque mesi del 2022 verranno eseguiti i lavori, un progetto molto ambizioso per una pista di atletica a Ronio, si parla di 300 mila euro, è in fase della progettazione e a breve presenteremo il tutto in Regione Lombardia, dopodiché abbiamo acquistato e ci sono arrivati in questi giorni un'auto elettrica in funzione alla Polizia Municipale e al Comune e attrezzature per la protezione civile per i nostri operai comunali per 60 mila euro, perciò 3 milioni di euro che in pochi mesi stiamo mettendo in pista tra fondi comunali, bandi regionali e bandi nazionali, perciò ecco, tanto lavoro che ha visto i nostri uffici impegnati in questi mesi ma che ci sta dando anche delle grandi soddisfazioni.